Il rischio di un nuovo commissariamento dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzese e Molise preoccupa il direttore generale dell'IZS Caporale di Teramo. Considerata infatti la mancata approvazione da parte del Consiglio regionale del Molise della legge di riordino dell'Istituto Teramano, l'ente è a rischio. Io penso che nonostante i risultati continuano a essere positivi per il nostro istituto, c'è una crisi amministrativa e istituzionale. Io penso che ci sia stato una serie di malintesi tra le due regioni, per cui si è arrivati a questa. Si deve fare semplicemente, dal momento che sono stati i malintesi, io penso che sono persone molto responsabili e intelligenti, sia nell'Abruzzo che nel Molise, si siedono attorno a un tavolo e insieme analizzano quello di non corretto, di errori che sono fatti e insieme si trova la strada giusta, che è quella di arrivare a una condivisione assoluta delle due leggi. Quindi le due leggi non devono discostarsi l'una dall'altra e devono essere in linea con la legge nazionale. Indipendentemente da tutto, i commissariamenti non fanno mai bene. Questo ente che esce da 20 anni di commissariamento, da due anni e mezzo, insomma, con gravi disagi, anche stiamo uscendo con delle situazioni problematiche. Però, ecco, di nuovo si sarebbe di nuovo un ostacolo a questa normalizzazione, ma non dal punto di vista scientifico. La cosa incredibile è che ci sono talmente tante risorse umane di valore all'interno dell'ente che hanno risentito poco dell'ambiente circostante, non so come dire, la situazione ambientale. E questa è la ricchezza di questo ente, è quello che deve far sì di responsabilizzare ancora di più.